Mi serve il vostro aiuto, Giamma, Beginner Mode, Normal Mode o Lava Mode? No, frate, no, sblocca la la... ti do il codice, me l'hanno passato quelli che l'hanno creato, che sblocchi la Beginner, però è B, è un piccolo cambio all'inizio, sì, che è la modalità, quella vera e propria del gioco. Allora, sentimi qua, la Beginner Mode non fa altro, che tu puoi teletrasportarti nel punto più alto che hai raggiunto fino a quel punto. Mentre la Normal Mode se cadi cadi, la Lava Mode devi essere pure veloce perché sale la lava. Che merda, no, 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 bravo, grazie a l'hanno. Buongiorno, la Lava Mode no. Allora, aspetta, qui la situazione, la Beginner lo possiamo finire oggi, con la Normal invece ci sono... Con la Normal, no, 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 con la Normal, brodero, ci fai altre tre stream che non si fa un cazzo, e quindi ti porti sto gioco e basta. Che cazzo hai detto? Aspetta, perché l'unico che sono a riuscire a sentire... Con la normal ci fai almeno un mese Mettila normal Vogliamo essere incatenati Non volevo fare delle similitudini Che non mi riescono Continua dimmi tutto Vogliamo essere incatenati Diciamo uno Attaccato all'altro No tutti e quattro No ma quattro attaccati Proprio a quadrato Oppure uno in fila all'altro Io direi in fila Marzo io ti dico subito una cosa Ti vado subito a rispondere a una roba Che valore dai alla nostra amicizia Bah più di quella che dai tu sicuramente Beh un valore importante Un valore importante Ehm Un valore da 4,49 euro Beh certo Ah vuole che gli pago il gioco Andiamo dai Beh ma sta cercando lavoro col curriculum Uno devi perdonare un attimo E' un po' che trova lo stabilimento in più No ma non mi prende più nessuno Sotto la zilla Bisognerebbe farselo Un account Una cusa Non so Mamma carta Guardatemi la stream E' più facile capire quale delle due Possiamo scegli Fammi vedere francesco Incatenamento quadruplo o incatenamento consecutivo Close chain Scusa mi richiede Mi ridici un attimino quali sono le differenze Ma io non trovo la tua lobby Eh non è ancora fatta I pen sono in fila Tipo capito Quelli che si vogliono buttare al culo Uno dietro l'altro Ok Invece closed è proprio a forma di quadrato E' closed Allora rega Dobbiamo capire Com'è meno proibitiva Oh no Oh mi sono azzardato ad aprire Un secondo la stream di Kaisenath E si è visto un parco di paesaggio Di Elden Ring E in 18 hanno scritto Spoiler 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 E' spoilerato la lor Mentre che tornate Vedete vostra madre così Dark Souls player Ma che cazzo spoiler Come siete Allora Io farei la votazione Io voto il incatenamento quadrato Allora rega Rega infila Che significa Infila mica in verticale Infila tutti orizzontale Ma non cambia Perché tanto Cioè Non è la catena Non è rigida Quindi potresti essere Come si dice Ti puoi mettere sia orizzontale Che verticale Ok A meno Ci sta Eee Sì Barzò Per me va bene Quale? Sì 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 Quello va benissimo Senza problemi Dai facciamo open Fai open ma Per me va benissimo Vieni da me Vieni da me Dai che ci stanno vendendo Perché sapete già Perché sapete già i tasti Ma c'è scritto grosso Come una casa E pool Dai ragazzi correte E pool Ma raga ma non posso correre Ma come fate a correre Ma Gianco ma non lo senti pure tu Vedendo st'ambiance Che cosa? Ma guarda Ma è perfetta Ma è bellissima era la sensazione Raga ma a me non co Ok adesso corre Oh chill chill Correte Correte C'è troppa roba Sullo schermo Scusate Ma che Che cazzo Massimo Aspetta Trainatevi Ringa Bing bing Trainate quello lì So un peso So un peso Mi ne rendo conto Che so un po' peso Dai Un elevators Ma per caso ragazzi Quella barrettina Che vi è in alto a sinistra È l'indicatore Allora aspetta Allora aspetta Guarda il barrettina Guarda come va veloce Guarda È il resto che ti dà dritto E' il rumore di merda Subito Andiamo 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 Nelle storie mie di Instagram V'ho messo Nelle storie mie di Instagram V'ho messo preciso V'ho messo Il maestro è quello che perma Corre e c'è C'è intergame Ma non so che bo È fortissimo E Gianco è Gianco è normale Oddio Andiamo a letto Che schifo Ragazzi siete lenti Ma se sei l'ultimo sei Ehi Scommetto dieci anime Che non ce la fai Ehi Smettila di parlare Pezzo di me No fermi raga Che il maestro è caduto Ma sei un coglione Ma Non è possibile Fare una fila indiana La si faceva A sei anni La si faceva Procediamo tutti quanti uguale Questo non si fa Stacco la stream Raga 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 Un secondo Ma Un attimo Ma no Ma che fai a fare Ma come fai a pretendere Di poter saltare lì Ragazzi Questa è una scimmia No se stiamo insieme Fermati Raga Quello che La facciamo Raga ve lo giuro Ma perché dobbiamo andare lì Ma insomma io vedo dei laser Non rischiamo No ve pullo Ve pullo Ve pullo Andiamo Ma voleva saltare Da lì a là Oh No no Ragazzi dovete pullare Pulla 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 Gianco Pulla Gianco Manuschio Pulla il maestro Pulla il maestro Ok questi lasers Scatenano questa trappola Che ci butta tutti quanti via Dobbiamo fare 3 2 1 Secondo me No no Perché il timing Quando il maestro Può andare da solo Tranquillo Ok vai No Ma ok vai Ed è partito al vai Ok Ok qui Ok regano 3 2 No 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 Non so Un secondo 2 possiamo farlo 3 2 1 Vai 3 2 1 Vai Ragazzi non possiamo 3 2 1 Vai No Aggrappatevi 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 Tirate su postui No laser Coordiniamoci E' di facile Guarda che timing Che abbiamo preso Occhio che queste cose Fanno del male E' la cosa più stupida Da fare del mondo Cioè non è impossibile Sbagliare Vi è una Oddio Face bar Stop climbing Bello No 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 Babbeo Ok abbiamo raggiunto Una zona di safe control Non credo Ragazzi Riacquisiamo il controllo Riacquisiamo il controllo Riacquisiamo il controllo Tutto sulla pietra Mi prego Ferma 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 Dobbiamo coordinarci nei trampolini Ma qui è proprio per forza Maestro ci sei? Pardon? No no ok ci sono Ok 3 2 1 Vai Bello Fermiamoci vi prego Ferma tutto Ferma tutto Ferma tutto Ferma tutto Ferma tutto Bello bello Anche questo Ferma tutti Bravissimi Adesso non ci avevo Ma c'è una zona vulcanica qua Ok questa è La giusta In Francia Nelle cose Nelle catacombe Le catacombe Fungi man Bellissimo Dark fantasy Un po' shit Maestro non ha senso andare lì Non ha senso andare lì C'è la scala Era la scala C'ho cattata C'era la scala Dobbiamo andare di qua Ragazzi 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 Piano regà Piano che qua poi si tira Perché Perché Ah vabbè ci siamo Ma perché sì Ah ma c'è il geomag L'attaccata comunque Sì è più semplice Perché la difficoltà è un'altra Ragazzi faccio la cazzata Ma non cambiano Ah vuoi andare Ok Ok Però regà C'è non si può Non si può fare così C'è non può Non può essere La roba E seguiamo il maestro Però è bello Mi sento tipo sulle giostre C'ho la sensazione Quella nel culo E qui il maestro che facciamo Tutti qua Tutti qua E mo così Bello Ok Bravo comandami tutto Marzo Ragazzi io ovviamente Non so dove sto andando Ci mancherebbe altro Noi ti seguiamo Tu sei il capo Stiamo nel dominio De su cuna praticamente No ragazzi È un disastro È caduto È caduto un amico Sira sull'amico C'èmo vivi Ok Di un trampoline Capiamo dove andare prima Che non si può E con me la dava l'antie In avanti In avanti No 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 raga Torniamo Torniamo No raga è baggato Dobbiamo andare Dobbiamo andare Allora andiamo Andiamo al prossimo assalto Al prossimo Vai Ok Vai 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 Tutti in avanti Così che si va Sì certo Così che si va No 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 Perché non l'hai detto Perché non l'hai detto Perché non l'hai detto Perché non l'hai detto No perché non l'hai detto Ma questo 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 Vai Ok vai 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 Corri 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 Ok lì ti è là Perché non lo dici Sacco di merda Sacco di merda Sacco di merda Pulla 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 Ma tu sei Tu sei una sborra essiccata Proprio Ma perché lo fai Ragazzi ragazzi No giamà Frate ho trollato No 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 Non salite Non salite Oddio Eh Quello vi volevo dire Salvi 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 Allora vi è giungo spina Eh dobbiamo tipo Entrare uno nell'altro Sì Occhio Arriviamo proprio al limite Della zugo spina Che è tipo qua quasi Ma per fare che cosa E per andare su Ah ma perché so Andiamo adesso Andiamo adesso Spingere spingere E le cose No 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 fermo Fermo un altro Regà Ora Spingere spingere Se sale se sale E le roba che te punte Ragazzi pull a part Ragazzi troppo No no marzo ce l'hai Abbiamo perso un'amica Ok 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 Siamo tutti No Aiuto Aiuto Qua c'è un errore Aggrappati 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 Salta salta Pull up Pull up Non lo so fare Ragazzi ho laggato Vai No però Non puoi fare così Non puoi fare così Non puoi fare così Arzo Ma se lui va avanti Io sono secondo Vengo tirato Vabbè raga Ciao è chill Vi pullo Comunque il sistema Di trascinamento È chill Cioè non Ragazzi You are not You are not pulling me Ok bello Vai Vai 3 2 2 Stai già nel lato Sì sì Ho fatto un doppio salto Non so perché Chi pesa in culo Io il blocco Paese Grazie Non sei due Davanti Devo stare io Davanti Ragazzi Qui c'è una shortcut Insomma non c'è shortcut È palesemente un bait Era palesemente un bait Ma dove va? No non sarà un po' niente Ma sì Siamo in giro Siamo in giro Siamo in giro 1 Via Ho qua che vi sono Dei spunzoni qui Ho ancora Livello di full guys Via Vai sali Mi ha bagabusato Ragazzi Un zoom Un zoom Non mi piace Chi vuole andare davanti Ragazzi Ragazzi Tragedia Salta Bravissimi Questo ragazzi Ci sono cascati tutti Sei volte Ho visto una stream Di salaminsk Dobbiamo andare a destra A destra Di un trampoline È probabile che si buggy Che appena saliamo Poi rimbalziamo No no Non è vero Cazzata 3 E niente Marzano Guardiamo Guardiamo Non andate Rimanete qua Capiamo 3 2 1 No Andiamo Andiamo A questa salta A questa salta Andiamo E al prossimo Andiamo pure Andiamo È un disastro Ok No no Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Oh sì Tirate su quel babbeo Fatto caccone Fatto caccone Che cos'è questo Fugurobore Ragazzi Potevi affigliare Farci a quel robo No regà No Mi porto Io Mi porto Se porta il maestro Nel cella Vado che bello Mi sento in un film Di spionaggio Bellissimo Tutto potevi Di fratele Te Te dico Avventura Unciata De roba Capito Che sali Su una montagna Incredibile Io tengo paura Capo E dieci Samp Mi butto giù E dieci Poi troppe Dove ci stanno portando No Mestro Non faresti ridere Ho fatto grandi progressi Ma regà Posso dire Posso esagerare Una situazione Siamo Noi lo finiamo Vai 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 Andiamo Mi sembra facile Ma dove c'è un truck Qui Non vedo io Non ho avuto il tempo Di vederla Ma dove il trattorino Di campagna Guarda Le sgorski Marzo 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 Ragiona Su quello Marzo 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 No Marzo Marzo È il momento Di ricordarti Che io Come taricone Non voglio farlo Marzo Ti prego Ti prego Hai fatto Le sdrago corse Per anni Abbiamo spammato Niente Cosa è Questa è Cosa è Un uomo Per lei Vi sono dei buchi I buchi Quindi i lieviti E le cose Dove tu cadi Lo sai Marzo Qui come prima Spammavo sempre questa qua La bella cosa Delle sdrago corse Con le robe Che ti hittano Quindi sei bravo Attento a questa statua Palesemente Che cadrà Ragazzi tranquilli Siete in una botte di ferro No Come si salta La macchina È tornati regà Grazie per sub e resab Benvenuti a tutti quanti Thank you Il timing Ogni volta mi vedo morto Ragazzi Non so perché Anche io Il maestro Ragazzi Questo cos'è Un belisco No Non penso Le rotazioni Va bene Ma Sì Vai Vai Salta Questa è una cazzata Regà Porco di Una cazzata Il cil Fallo cucinare Regà salta Ok Agrapping Agrapping No ragazzi Mi sono salvato Saltate Spammate 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 Soltate Vaffanculo Il cubo Qui è cosa di timing Qui lo bagabusi Saltando qua Ma infatti che cazzo Me ne frega a me Vai E poi qui guarda Salti Ma secondo me Dobbiamo andare qui Certo Giustamente King orientale In una roba Circolare base Non Lo possiamo far da sopra Così Tu con la piattaforma Comunque abbiamo tutti Un'esperienza decennale Sui videogiochi Chilla Questo se lo fanno Guarda in silenzio Signori Tragedia 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 Tra te Pulla Pulla bene Pulla bene Ragazzi I'm pulling I'm pulling Vai Vai Qui stiamo malati Vai Tira dritto C'è ci mette gli anni Cioè lui non stiamo Troppo più forti Oddio Aspettate che sono diventati Un certo di lei Oh bello Andiamo 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 Ma infatti Posso dire che se noi abbiamo fatto Il team troppo forte Dovevo mettere un No ma aspetta Aspetta che lo stiamo bilanciando Subito Ci si può arrivare Alle casse delle morte Non ero ancora salito Sacco di merda Tragedia liturgica Tragedia liturgica Tragedia Ragazzi Ma io credo che sia Mettra uscita questa cosa Maestro Tragedia Maestro Tragedia La attacco io La attacco io Pullate Non ci arriva Non ci arriva Un disastro Tragedia 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 Grapparsi No Sì No Bravo 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 No Aggrappatevi a qualcosa Aggrappatevi a qualcosa Ti devi aggrappare Oddio Sono su un'altra Passate degli sacchi scrotali Incredibile Il Cristo re ando grappare Grazie a tutti.